Comunicazione digitale del web sono i due ambiti in cui si sono messi alla prova 45 studenti del liceo Cognini Rodari all'interno del progetto l'alternanza esservita, un percorso di alternanza scuola lavoro ideato dalle camere di commercio toscane e condiviso con l'ufficio scolastico regionale che intende orientare e formare giovani allievi e consentire ai ragazzi di entrare in contatto con le imprese attraverso il linguaggio della tecnologia, due nello specifico i settori in cui gli studenti hanno operato il turismo e l'agroalimentare per valorizzare l'immagine digitale delle aziende e la reputazione online. Ed era un percorso che era diviso in due parti, una parte riguardante l'attività formativa in particolare nell'ambito della comunicazione digitale del web e una parte invece di un percorso diretto, direttamente di stage presso l'impresa di 40 ore, presso il quale appunto gli studenti potevano andare ad avere un contatto diretto e capire come funzionava sia il settore sia l'impresa del territorio. Ha partecipato il liceo Cicognini Rodari, tre classi del liceo Cicognini Rodari, in tutto circa 45 studenti che hanno fatto appunto i due percorsi e le imprese che si sono rese disponibili sono state 10 in tutto. Con tutte non è stato possibile poi per un problema logistico attivare i percorsi, però ringraziamo sicuramente la disponibilità di tutto il settore delle imprese e del territorio. Il progetto, partito lo scorso 25 febbraio nella Camera di Commercio Pratese con un seminario introduttivo, si è quindi concluso sempre nella sede camerale dove i giovani partecipanti hanno ricevuto un attestato. Mi sono occupato della parte del marketing, marketing aziendale, in particolare ho prestato formazione in un birrificio artigianale dove ho lavorato nel loro sito creando dei blog lavorando sul loro tipo di struttura e cercando di ampliare il più possibile la loro formazione e anche cercare di innovare il loro sito, cercare di renderlo anche più moderno anche su un punto di vista del loro sito stesso ma anche all'interno dei social network attraverso Instagram, attraverso Facebook ed è un'esperienza che secondo me aiuta a crescere e cerca di avvicinare sempre di più le persone attraverso il mezzo che è per appunto internet. Ti piacerebbe proseguire in questo settore? Sì certo, mi piacerebbe proseguire perché è molto interessante lavorare su questo ambito qui e quindi può essere una possibilità. Un'iniziativa a doppio senso che oltre ad orientare gli studenti contribuisce a formare profili professionali coerenti con gli attuali bisogni delle imprese valorizzando la produzione locale e il turismo a Prato. Hanno svolto un lavoro molto ben dettagliato e fin da subito hanno capito come ambientarsi e mettere le mani su queste argomentazioni che non sono sempre così intuitive insomma ma loro visto proprio la generazione nuova hanno fin da subito avuto insomma una confidenza molto fluida ecco. Abbiamo deciso di aderire al progetto perché sono sempre opportunità interessanti che magari non si trovano altrove anche se si cercano magari si trovano sempre professionisti che lavorano in quel settore e quindi era bene diciamo calarsi anche in questa opportunità e niente appunto gestire questa cosa qui con anche questa metodologia insomma. Sì lo consiglieremo, lo consiglierei a tutti insomma anche a piccole e medie imprese ecco sì sicuramente.